Prima una tavola rotonda, poi la firma dell'intesa. La Fiera del Levante va verso la privatizzazione. È stata siglata infatti un'intesa fra Regione Puglia, Fiera del Levante e Invitalia, l'agenzia governativa che si occupa di aspetti rilevanti della vita economica italiana per la privatizzazione della Fiera. Grazie all'intervento di tutti, ha spiegato il Presidente dell'Ente, Ugo Patroni Griffi, abbiamo intercettato interessi di stranieri e interessi delle grandi agenzie nazionali per l'attrazione degli investimenti. È la prima volta che una società pubblica come Invitalia fa di una fiera un caso di studio per l'attrazione degli investimenti privati. Un accordo, ha detto il Presidente della Giunta regionale pugliese, Nichi Vendola, con il quale affidiamo ad Invitalia la scrittura di un piano di fattibilità relativo alla privatizzazione della gestione della fiera. In questo piano, ha continuato Vendola, ci sono due elementi fondamentali. Innanzitutto la valorizzazione del patrimonio che comunque resterà pubblico e poi anche l'immaginare a come ottimizzare la gestione della fiera. Per gennaio 2014 avremo queste carte. In questo percorso di studio e di ricognizione, la previsione sarà quella eventualmente di mettere a band un oggetto prezioso. Quindi non una svendita del patrimonio, ha sottolineato ancora Vendola, non una privatizzazione di quelle che si sono fatte negli ultimi 20-30 anni a perdere, cioè a regalare gioielli di famiglia, ma una privatizzazione intelligente che riguarda soprattutto la gestione di un sistema fieristico che è sempre di più il vettore dell'internazionalizzazione del nostro sistema economico. Invitalia ha spiegato Domenico Arcuri, amministratore delegato, accompagnerà il processo di possibile privatizzazione della fiera. Significa restituire numeri e profili di competitività, di redditività, ha detto Arcuri, e anche di funzionalità economica e sociale come ormai le direttrici del mondo richiedono. L'investitore potrà essere un soggetto illuminato che sa comprendere il patrimonio potenziale che la fiera ha, sia per territorio che per bacino di riferimento e per contiguità con altri paesi che sono prossimi a questa regione e che sappiano trasformarlo nelle opportunità che appunto dicevamo. Credo, ha concluso, che sia possibile in Italia o all'estero. Per banali ragioni statistiche ce ne sarebbero di più all'estero.